Un'altra buona prestazione casalinga, però come vuole la città, vorrebbe la città, i tifosi, come vuole il mister, ci vuole il salto di qualità e si fa trovando la continuità anche fuori casa. Certamente speriamo di fare il meglio possibile questa partita che viene, come ha detto lei dobbiamo fare quel piccolo saltino e lo dobbiamo fare ora sul campo di Prato, è la cosa principale che dobbiamo fare. Sei tornato subito a segno, hai anche fatto una particolare dedica domenica? Sì, è la dedica per i nostri tifosi che anche dopo queste due settimane fuori mi hanno fatto avere il suo affetto per farmi perdonare. Ci guarda in questo caso più davanti, quindi zona playoff, o più ancora dietro per evitare playoff? No, noi sempre guardiamo davanti, come abbiamo sempre fatto dal primo giorno di preparazione, ho pensato a fare il massimo. Quindi come ti dico, noi pensiamo sempre a portare avanti, a vincere per andare il più alto possibile. A proposito dei tifosi, vorrebbero un'altra dedica perché il prossimo turno c'è il derby sentitissimo col Prato. Lo speriamo, speriamo, speriamo farlo anche da loro, sarebbe una cosa bellissima vincere anche lì, quindi speriamo bene. Cosa manca alla Pistoiese per fare qualche punto e qualche bella prestazione anche in trasferta? Secondo me abbiamo avuto anche tanta sfortuna, il mio episodio a Cugno, che ho chiesto scusa a tutti i ragazzi per quello che non fa una persona professionale a fare quello che ho fatto. Quindi tutte piccole cose non è che manca tanto, perché noi sappiamo come siamo, ci conosciamo e sappiamo come siamo come squadra. Quindi quando c'è la fiducia fra di noi siamo un'altra squadra. Quanto potrebbe valere un risultato positivo sabato nel derby contro il Prato? Ti dico che vale più di tre punti perché veniamo a una partita molto bella qua in casa, quindi fare altri tre punti sarebbe una cosa bellissima a livello di stimolo, come gruppo, come tutto.